Virtus Pratole e Raiano uniscono i loro settori giovanili e danno vita all'ASD Valle Peligna. L'annuncio è stato dato dai rappresentanti delle due società che evidenziano come l'accordo sia stato raggiunto a seguito di brevissimi incontri a dimostrazione della volontà di unire le forze per creare un progetto ambizioso rivolto all'intero territorio. La nuova realtà si avvale di un direttivo di dieci soci. Assume l'incarico di presidente Simone Tofano e di vice Marcello Mascioli, direttore generale Michele Sabatini e segretario Francesco Ansellotti. Gli altri componenti sono Lorenzo Di Biase, Innocenzo Pizzica, Giovanni Tofano e Carlo Del Boccio, mentre l'area tecnica si avvale del coordinatore Silvio Di Bacco e di Giovanni Di Gian Antonio. Le attività si svolgeranno sia al campus di Pratola Peligna che sul manto in erba sintetica del Cipriani di Raiano e verranno condotte da allenatori qualificati. A far parte dello staff ci saranno un preparatore atletico diplomato ISEF e due preparatori dei portieri per le varie categorie che andranno dai primi calci agli allievi, coinvolgendo dunque bambini e ragazzi nati dal 2003 al 2014. Nelle prossime settimane verranno forniti ulteriori dettagli sullo staff tecnico e sul programma delle attività. Un settore giovanile a 360 gradi con la Virtus Pratola che torna al nome originario di Valle Peligna. Raiano invece da una parte avrà il settore giovanile con la SD Valle Peligna e dall'altra continuerà a gestire la prima squadra della Juniors con lo storico GS Raiano. a mercato di Valle Peligna in un anno jemandi... Grazie a tutti